Grazie mille intanto per l'invito, la segretaria di circola e tutti voi per esservi iscritti oggi a questa mangiata e spero iscritti al PD quando passerà Paolo. Chiaramente come PD di Bologna ci teniamo a questi momenti non solo per rincontrarvi, anche in un momento un po' più conviviale, oltre ai tanti incontri che stiamo cercando di organizzare sui temi che vi dicevano era prima, abbiamo aperto su indicazione anche appunto del PD nazionale una campagna di ascolto in tutti i circoli, campagna di ascolto che vedrà poi la raccolta di quello che è emerso in questi incontri da portare come sintesi a regionale e poi verrà fatto una discussione a livello nazionale. I temi scelti sono appunto quelli chiaramente del lavoro, dell'immigrazione e delle politiche di accoglienza che vanno strettamente connessi, quindi non solo parlare di immigrazione ma anche di quale sistema di accoglienza vogliamo mettere in campo e chiaramente di quelli che sono i temi più legati alla sicurezza e anche alla legalità visto che è il tema che seguo qui in segreteria appunto di Bologna. Chiaramente appunto ci piace molto l'idea di poter raccoglere quelle che sono le opinioni dei nostri iscritti o anche di quelli che non sono più iscritti nel nostro partito che sono in qualche forma delusi o che non si riconoscono più diciamo in questa nostra comunità. Vi chiediamo non solo quindi di continuare a credere in questa comunità ma anche di darci una mano a recuperare eventuali persone che si sono allontanate, capire qual è il loro disagio, quali sono i motivi di questo allontanamento. Come sapete domani appunto il nostro segretario a livello nazionale ha annunciato quelle che possono essere le sue dimissioni che quindi portano al congresso che vi diceva la Sonara di tutte diciamo le cariche politiche a tutti i livelli del partito dai segretari circoli a quelli provinciali a quelli regionali e il resto e quindi siamo in questo clima un po' di attesa di capire esattamente che cosa succede. Anche quelli di Unione sono successivi perché non c'è tanto, quelli di Unione non sono cariche a vita. Chiaramente appunto il PD di Bologna non si sottra a questo, anzi appunto in ogni circolo abbiamo chiesto anche se volevano approfondire i temi organizzando anche dei momenti punto più di approfondimento con alcune persone ad esempio in Bologna a mercoledì avremo un'iniziativa su legalità e sicurezza, vi sapete che c'è anche il problema legato a Exame 24 quindi ci sarà un clima anche abbastanza caldo diciamo per parlare di questi temi. Non mi sottrarrò a dire quello che penso su quello che è successo in questi giorni appunto in via Zamboni specifico appunto alla biblioteca. Chiaramente chi compie reati è assolutamente da condannare nel senso non è possibile che una città come Bologna che è da sempre città accogliente, città riconosciuta come la dorta o comunque la città del convivio e del buon vivere possa essere scenario di atti di quel tipo nel senso che comunque quelli non sono persone che chiedono diritti mettendo praticamente a fuoco e fiamme una biblioteca che è uno dei luoghi quasi più sacri diciamo della conoscenza, del sapere appunto anche dell'acquisizione di diritti o dell'acquisizione in una città come quella di Bologna che appunto la sua università nasce anche sul discorso della giurisprudenza del diritto vuole fare di quel sapere qualcosa per poter tutelare quei difficili diritti con la conoscenza di il sapere. Chiaramente bisogna lasciare operare i diversi ambiti quindi la procura, la polizia e il resto per capire di chi sono le responsabilità, se sono collettive o se sono solo di alcune persone e di appunto fare poi il soccorso alla magistratura e agli altri per andare a condannare gli eventuali reati commessi con le giuste e le adeguate pene. Soprattutto cercare appunto di prevenire situazioni di questo tipo e cercare in qualche modo di usare anche i giusti toni nel senso appunto non aumentare il livello di scontro o di in qualche forma dibattito se non dialogico ma appunto di pur scontro verbale perché davvero la nostra città non si merita di essere messa a tutta fuoco e fiamme solo per radicalizzazione o diciamo rimanere ognuno sulle proprie posizioni non aiuta. Come qui di Bologna siamo molto attenti anche qui a queste tematiche, crediamo fortemente nella legalità, non solo appunto nella legalità delle norme o comunque di quelle che sono le norme del buon vivere eccetera ma anche nella legalità come cultura da diffondere e quindi anche qui vi chiediamo una mano, l'anno scorso avevamo avviato un ciclo di incontri, seminari per approfondire alcuni temi sulla legalità da appunto la sicurezza percepita e la sicurezza reale piuttosto come riconoscere magari l'illegalità della criminalità organizzata sul territorio che cosa significa ad esempio il riciclaggio o come si riconosce se ad esempio un bar o un ristorante possono essere frutto diciamo di denari, della malavita o di altri tipi di organizzazioni, che cosa fare in caso anche diciamo se si assiste a un reato, se si assiste a determinati fenomeni che ci faiono sospetti eccetera. Noi siamo ancora qui, ci piacerebbe riprendere questo ciclo appunto al di là della fase congressuale o meno che si può aprire domani e ci piacerebbe farlo chiaramente a partire dalla nostra comunità che quindi sono gli iscritti e provare di approfondire temi e strumenti che possano aiutare poi le nostre amministrazioni ad avere qualche strumento un po' più concreto, come sapete soprattutto sul discorso sicurezza e legalità ai comuni ai quartieri, alla città metropolitana, alle regioni non sono dati degli strumenti propri operativi perché sono proprio delle forze dell'ordine o della magistratura, ma si può comunque fare tanto per riuscire a creare un clima appunto di legalità, di dialogo e di diciamo cultura del senso civico più allargato e che quindi possa favorire diciamo anche patti tra i cittadini, tra l'amministrazione e le organizzazioni, quali associazioni, enti o altri per riuscire a gestire anche parti di città o azioni in città che creino maggiore coesione sociale e che quindi creino qualche barriera o qualche difficoltà a determinate organizzazioni di tipo criminale di insediarsi in maniera radicata in città. Quindi io vi ringrazio se vorrete appunto siamo assolutamente aperti al dialogo eccetera intanto saluto anche il nostro Presidente dell'Assemblea e anche i miei colleghi in segretaria e niente grazie a voi davvero per essere ancora qui con noi anche in questo clima così un po' di attesa. Grazie mille.